Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroix. Durante la guerra dei trent'anni nel 1643 Luigi II di Borbone dormì profondamente il giorno prima della battaglia, infatti quella sarà la vittoria schiacciante del principe di Condé sugli spagnoli, ma il sonno è possibile perché aveva già dato tutte le disposizioni, era sicuro di tutti i partiti che aveva già preso, di tutte le decisioni che erano già state stabilite. Lo stesso non si può dire invece di Don Abbondio perché il nostro curato non solo è terribilmente in ansia ma soprattutto è incerto su quale sia la decisione migliore da prendere. Non sa come rivolgersi a Renzo la mattina successiva e per tutta la notte si gira e si rigira in quel letto e ad ogni partito che scarta subito se ne presenta un altro e nessuno sembra quello giusto. Entrambi però devono affrontare una guerra, una guerra autentica, quella della storia, la storia che si fa insomma a livello europeo e l'altra quella di Don Abbondio una storia di poco conto, è una lotta domestica, una storia di vita quotidiana irrilevante ma per il curato è fondamentale. Affrontare Don Rodrigo, Dio liberi, non se ne parla neppure. Mettere al corrente Renzo sarebbe come accettare la schiopettata e l'escamotaggio più sicuro è quello di guadagnare tempo e qui quindi si conferma il comportamento che già avevamo visto nel primo capitolo. Don Abbondio è maestro nell'arte di aggirare gli ostacoli, non nel superarli e infatti vuole prendere tempo perché per la chiesa cattolica le nozze erano vietate dalla prima domenica di avvento fino al 6 gennaio cioè fino all'epifania e nel nostro caso quindi a partire dal 12 novembre del 1628, periodo proibito per la celebrazione delle nozze e dopo aver stabilito un piano finalmente si addormenta ma non fu un sonno tranquillo come quello del principe di Condè. Il mattino successivo Don Abbondio dunque si appresta ad affrontare Renzo e noteremo quindi la differenza nei due scontri. La battaglia si sviluppa a livello verbale, vedremo che è quello che in apparenza sembra il vinto, in realtà è appunto il vincitore, è l'oppressore, quindi vedremo due fasi. Nel primo caso sarà Don Abbondio a vincere perché grazie ai tecnicismi, all'arte del linguaggio non ce ne sarà per nessuno, è chiaro l'uomo di cultura, l'uomo di chiesa mette nel sacco in tre secondi il povero ignorante Renzo, il povero umile colui che non ha potuto studiare. Dall'altro lato però poi vedremo che Don Abbondio essendo sensibile solo alla violenza quando appunto Renzo lo capirà riuscirà ad imporsi in modo minaccioso e a farsi rivelare il nome di Don Rodrigo cioè il nome di questo soverchiatore che vuole impedire le nozze ma come dico sempre sarà una vittoria di breve durata. Il suo è un potere da poco perché ha autorità soltanto nel villaggio, non è una grande autorità della chiesa, non è un vescovo, un cardinale come Federico Borromeo però in questo caso lui avrebbe avuto il potere di imporsi nei confronti di questo signorotto, di questo criminale diciamolo pure ma non lo fa, preferisce la via più semplice che è quella di aggirare l'ostacolo e di schierarsi sempre dalla parte dei potenti. Ora una volta vedremo dunque il contrasto tra la realtà e l'apparenza da una parte quindi chi sembra oppressore invece oppresso e viceversa e dall'altra invece lo scontro tra l'utile personale cioè ciò che fa comodo a Don Abbondio e invece il dovere morale, lui avrebbe avuto il dovere invece di denunciare l'accaduto ai suoi superiori, in questo caso al cardinal Borromeo. Interessante perché dopo Don Abbondio finalmente abbiamo la descrizione dei due protagonisti di Renzo e Lucia, questi futuri sposi, però ecco strano a dirsi Manzoni non indugia sulla loro descrizione fisica ma da un tratto molto veloce della loro condizione sociale ed economica. Renzo è un ragazzo molto giovane, ventenne, quindi nel fiore degli anni come Lucia, quindi entrambi giovanissimi e ci viene soltanto detto che entrambi sono orfani di padre mentre Renzo ha perso anche la madre quindi è un orfano completo, Lucia invece ha Agnese la madre e entrambi sono degli umili perché lavorano alla filanda, sono dei filatori di seta ed è un mestiere che nonostante la crisi comunque permette di considerarsi persone agiate, comunque che possono vivere del proprio, sono semplici ma comunque hanno un buon reddito e pertanto non hanno bisogno di chiedere l'elemosina o di emigrare come invece hanno già fatto moltissime altre persone negli stati vicini per poter ottenere migliori condizioni economiche e di lavoro. Però è completamente diverso l'atteggiamento dei due che anticipo subito mentre Renzo è un ragazzo molto impulsivo e questo è dettato anche dalla giovane età e vorrebbe sempre farsi giustizia da solo perché nel momento in cui sentirà che questo soverchiatore è Don Rodrigo subito vorrebbe prendere lo schioppo, nascondersi, poi tendere l'agguato, insomma farsi giustizia da solo, andare subito dentro il suo palazzotto ed afferrarlo per il collo e poi farlo morire, dall'altro lato invece abbiamo Lucia, Lucia che incarna proprio i valori cristiani della fede cattolica, lei è sempre timorosa, rispettosa e soprattutto ha una cieca e totale fiducia nella divina provvidenza, cioè Lucia è colei che sa aspettare, non ha mai fretta e soprattutto non vuole mai uscire né dalla legalità e soprattutto dai precetti cristiani, lei si affida sempre all'autorità superiore, il grande insegnamento di Lucia è che nessuno di noi può pensare di vivere in un mondo senza regole, dobbiamo assolutamente rispettare le leggi anche quando ci sono o ci sembrano scomode, come dicevano i latini dura l'ex sed l'ex, questo è il discorso, non dobbiamo mai uscire dalla legalità ed è un tema centrale nel romanzo e soprattutto attualissimo, nonostante l'illegalità, nonostante i soprusi, il giusto deve sempre rimanere ancorato alle autorità e confidare nell'aiuto di Dio. In realtà Renzo e Lucia rappresentano entrambi due correnti opposte che poi vengono fusi insieme dal Manzoni, perché se Renzo rappresenta un po' l'illuminismo, la convinzione da parte dell'autore di poter comunque migliorare il mondo mentre vivo nel mondo, quindi la fede non è soltanto una passiva attesa di una vita migliore dopo la morte, assolutamente, non è questo, non è una vita contemplativa, una vita attiva, lui è stato un senatore della Repubblica, dall'altro lato però Lucia invece rappresenta quegli ideali che io metto in campo quando non riesco, non sono in grado di risolvere i problemi, quindi se non posso migliorare il mondo allora attendo un futuro migliore, ma nel frattempo mi do da fare illuminismo e cattolicesimo, le due correnti che poi verranno fuse dallo scrittore quando poi avverrà anche la conversione, quindi al cattolicesimo, alla fede cristiana, la mentalità razionale e la fede dove non arriva una arriva l'altra, che è l'insegnamento anche di Dante, Tommaso d'Aquino, la ragione mi aiuta ma poi devo compiere quel balzo, cioè dobbiamo leggere i promessi sposi in questa chiave, non dobbiamo studiarli soltanto per il voto, per la scuola, altrimenti li odieremo, dobbiamo amarli, dobbiamo sentirli perché sono pagine vive, quando arriveremo ad ascoltare la triste vicenda di Gertrude ci sarà da piangere, la conversione dell'innominato commuove perché sono degli esseri umani che rappresentano la condizione umana universale, quindi riguarda ciascuno di noi, sono due facce della stessa medaglia, due alter ego di Manzoni, due aspetti importanti della sua vita. Interessante una frase di Don Abbondio, io non penso che allevar di mezzo gli ostacoli, quando Renzo arriva ecco che Don Abbondio è pronto a coglierlo in castagna, vuole cioè inchiodare Renzo attraverso i tecnicismi, quindi l'uso del linguaggio qui è fondamentale, attenzione che non è cultura, sono tecnicismi, quindi sono soltanto dei nozionismi campati anche in aria, molto aridi, sterili, ecco la falsa cultura perché in realtà Don Abbondio non possiede una vera cultura, vi ricordate Carneade, chi era costui, in realtà ha solo un'infarinatura ma non ricorda più niente perché questa non è vera cultura, la cultura non si impara a memoria, la cultura deve essere assimilata, quindi qui in realtà Don Abbondio non fa altro che tirare fuori dei rimasugli, così dei ricordi molto ammuffiti dai cassettini della memoria per poterlo incastrare, tra l'altro utilizza anche un linguaggio incomprensibile per Renzo. Ecco un altro tema, quello dell'incomunicabilità, le istituzioni non comunicano con i cittadini e gli umili sono abbandonati a loro stessi, non c'è nessuno che li aiuti, nel momento del bisogno sono abbandonati alla disperazione, quindi un altro motivo per cui erano quasi anche obbligati a credere in Dio e in un futuro migliore perché senza il conforto della fede non sarebbe rimasto nient'altro e si verifica una battaglia verbale, linguaggio che viene usato soltanto per opprimere e per Manzoni questa è una falsa cultura da condannare assolutamente, è un ulteriore strumento per schiacciare i deboli, quindi per continuare ad opprimere coloro che non sono in grado di difendersi, la stessa cosa verrà poi attuata anche dall'avvocato a Zecca Garbugli. In questa prima fase Don Abbondio è il vincitore indiscusso e appunto utilizza uno stratagema interessante, quello degli impedimenti di rimenti, che cosa sono? Ci sono semplicemente tutti quegli ostacoli che andavano ad impedire la validità di un matrimonio, quindi o che impedivano di celebrare il matrimonio oppure che rendevano nullo il matrimonio stesso e fa un elenco, quindi qui va a ricordare due esametri e una parte di un terzo che aiutavano i curati appunto a ricordare a memoria questi impedimenti e quali sono? Error, quindi l'errore di persone, quindi scambiare una persona per un'altra, condizio, cioè verificare la condizione di una persona, quindi lo stato della persona se fosse celibe o meno all'atto del matrimonio, il votum, quindi se fosse stato fatto un voto da uno dei due sposi prima appunto del matrimonio, cognazio, ossia la consanguineità, non si potevano sposare ovviamente dei consanguinei, crimen, quindi aver commesso un delitto, un crimine particolarmente grave, il cultus disparitas, cioè la differenza di religione, quindi un cristiano e un musulmano, un ebreo e così via, quindi anche la religione era un impedimento, vis, la violenza nell'aver ottenuto il consenso dell'altro coniuge, l'ordo, quindi aver ricevuto gli ordini sacri, non si potevano sposare chiaramente, l'igamen, l'esistenza cioè di un vincolo matrimoniale precedente nel caso in cui appunto il coniuge non fosse ancora morto, onestas cioè la mancata promessa di matrimonio, l'onestas vietava cioè di stringere vincoli tra consanguinei di primo grado, quindi non si potevano sposare, sissis affinis, cioè l'affinità tra uno degli sposi e i parenti dell'altro, quindi quando Renzo arriva ecco che durante insomma tutta la discussione a un certo punto Don Abbondio ecco che si gioca la casso nella manica, gli impedimenti di rimenti, che è l'unica cosa che lo possa salvare perché tutto il discorso precedente in realtà è molto oscuro, Renzo diciamolo pure non ci capisce niente perché lo stesso Don Abbondio non sa spiegare il motivo per cui si debbano rinviare le nozze, parla in maniera molto vaga e generica, dice semplicemente che sono sorte delle complicazioni, che non sono state fatte tutte le carte, che mancano ancora determinate questioni, ci sono ulteriori ricerche da fare, da approfondire ed ecco quindi la carta degli impedimenti di rimenti. Don Abbondio essendo anche così poco intelligente, è un oppressore ma non è molto astuto, in realtà poi si lascia anche scappare una frase, non stavate bene, che cosa vi mancava, aveva saltato il grillo di sposarvi e quindi da queste frasi buttate lì così Renzo capisce che in realtà sotto ci sia qualcosa di misterioso, qualcosa che Don Abbondio non voglia assolutamente rivelare, però di fronte a questi ostacoli, di fronte al latinorum di Don Abbondio è chiaro che Renzo sia costretto a cedere e Don Abbondio riesce a tirare avanti per un'altra settimana e Renzo purtroppo non lo sa ma appunto la settimana successiva sarebbe iniziato quel periodo di sospensione dei matrimoni di cui abbiamo parlato prima, dalla prima domenica di avvento fino all'epifania e così poi Don Abbondio avrebbe guadagnato altri due mesi e in due mesi, dice Don Abbondio, ne possono succedere di cose. Notiamo anche la stupidità e la meschinità del personaggio, quello che importa è soltanto prendere tempo, tirare a campare, questo è ciò che ha fatto per tutta la vita, aggirare ed evitare gli ostacoli e le responsabilità. Don Abbondio rappresenta un'intera categoria di persone, di istituzioni che per troppo tempo non sono mai state in grado di dare delle risposte e di aiutare davvero i poveri e gli umili. Mentre però se ne sta andando nota Perpetua entrare nell'orto e l'occasione è troppo ghiotta, cerca cioè l'anello debole della catena sa che Perpetua è una pettegola di prima categoria, non vede l'ora di spettegolare se si tocca la corda giusta e quindi inizia a chiacchierare e anche Perpetua pur giurando di non sapere niente si lascia scappare un'altra frase, ma la cosa nascer povero il mio caro Renzo e se vi dico che non so niente significa che ho giurato di non dire niente, quindi qualcosa c'è sotto e si capisce dalle sue parole, da quelle pochissime frasi, che sotto ci sia un soverchiatore, cioè un prepotente, qualcuno che non vuole queste nozze. Allora in quel momento, l'abbiamo detto, Renzo preso così dal furor dei suoi vent'anni, torna indietro e affronta Don Abbondio di petto. Infatti anche lì notati i verbi, non sono molto veloci, entrò, lo vide, lo affrontò. Il povero Don Abbondio per un breve istante, per pochi secondi, sembra un vinto, però qui ripeto va in scena la seconda parte di questa rappresentazione teatrale. In apparenza adesso lui sembra l'oppresso e Renzo sembra l'oppressore, ma in realtà non è così, perché qui è semplicemente quell'innocenza sprovveduta di Renzo, quel giovanotto un po' incosciente, inesperto, che tenta di farsi giustizia da solo, ma che in realtà non sa di avere a che fare con un abile calcolatore di lungo corso, di vecchia data, quindi in realtà non può competere con l'esperienza pluridecennale di Don Abbondio. E infatti soltanto all'inizio, avendo capito che Don Abbondio è sensibile soltanto alla violenza e alle minacce, ecco che Renzo inizia a minacciarlo, assume quell'atteggiamento particolarmente dispotico, aggressivo, infatti in maniera velata Manzoni ci fa capire che per un singolo istante sembrava addirittura somigliare a uno dei bravi, perché a un certo punto poggia la mano sul manico del coltello, che porta sempre per autodifesa personale, quindi ha i tratti del bravo, ma in realtà non è così. Questo atteggiamento spinge Don Abbondio a cedere e rivela finalmente il nome Don Rodrigo. È lui l'oppressore, colui che non vuole che questo matrimonio sia celebrato. E infatti che cosa si lascia scappare poi a un certo punto Don Abbondio? Qui non si tratta di torto o di ragione, ma si tratta di forza. Ed è in realtà un'amara verità, questa che viene detta dal curato, perché pochi istanti dopo, dopo come dico sempre questa vittoria a breve termine, ecco che si rovescia nuovamente la situazione. Don Abbondio torna alla carica, vince per la seconda volta, ma soprattutto si trasforma nel ruolo che a lui riesce meglio, in quello di vittima. Perché non vi ho detto nulla, Renzo? Semplicemente per il vostro interesse, non vi ho detto niente, cioè perché ho a cuore la vostra vita. Volevo risparmiarvi un'ulteriore incombenza, volevo cioè risolverla per conto mio senza mettervi in mezzo. In realtà chi sta difendendo, chi sta proteggendo? Soltanto se stesso, è ovvio. Però questa frase rivela l'amara e triste verità e la condizione storico e sociale dell'epoca. Pur essendoci fiumi e fiumi di gride, come abbiamo già visto nel primo capitolo, purtroppo nessuno le faceva rispettare. Quindi il potere esecutivo e soprattutto quello giudiziario sono inefficienti, o meglio ancora, devono essere ben oliati o attraverso le conoscenze oppure attraverso il denaro. Quindi solo i potenti riescono ad avere giustizia e soprattutto a mettere nel sacco coloro che si occupano di giustizia, quindi avvocati, magistrati e così via. Il mondo rappresentato da Manzoni è un mondo di profonda ingiustizia sociale dove i più forti continuano a signoreggiare sui più deboli e al debole non rimane che il conforto della fede naturalmente. Questa società è da cambiare ed è quello che prova a fare anche Manzoni durante la sua vita. Non dimentichiamolo, lui ha una formazione illuministica, lui era un convinto sostenitore di queste idee illuministiche, infatti per molto tempo fu anche ateo, comunque lontano dalla fede e dal cattolicismo ed era convinto che questo mondo andasse migliorato e perfezionato grazie all'uso della ragione. Non devo aspettare il futuro e attenzione, quindi avere fiducia nella divina provvidenza non significa rimanere in attesa in modo passivo senza fare nulla, come dice la celebre frase aiutati che Dio ti aiuta. Don Abbondio è il vincitore indiscusso, addirittura poi c'è una grande ironia perché Manzoni mette in bocca anche altre frasi a Don Abbondio, poi basta andarle a leggere, ad esempio proprio voi venite a farmi questa aggressione in casa mia in un luogo sacro, in realtà scambia la canonica per la chiesa, qui non siamo in chiesa, quindi non è un luogo sacro, è così bravo a recitare questo suo ruolo di vittima che il povero Renzo sembra davvero pentito di questo suo gesto, capisce subito di avere ecceduto, cioè quando uno prova a farsi giustizia da solo poi passa sempre dalla parte del torto.